Ben tornati a tutti. Oggi è venerdì, 3 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Scontenti in amore ma consolati dallo shopping? Se con la luna in quadratura oggi l'amore non gira e la famiglia vi dà più grattacapi che serenità, la consolazione arriva attraverso lo shopping, niente di spericolato, siete abbastanza oculati e intelligenti da non fare pazzie. Cercate piuttosto strumenti o pezzi di arredamento davvero utili, puntando alla qualità e alla durata inoltre potete spaziare su libri o indumenti invernali, purché pratici e sobri. Insolitamente tranquillo per essere una coda di vacanza, quasi tutti rientrati, tranne il solito originale che è partito solo ieri. Contro il raffreddore in agguato il vin brule della nonna fa sempre miracoli. Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti, lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I single potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate e molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. Sarà bene che oggi mantegnate un atteggiamento professionale e distaccato dalle persone che vi circondano, qualcuno potrebbe essere tentato dal mettervi in cattiva luce. In serata è preferibile organizzare qualcosa con amici o conoscenti. Non perdete altro tempo. Quello che potete fare oggi non va rimandato a domani. Aspirate a qualcosa di meglio a livello professionale. Adesso però sarebbe meglio accontentarsi e portare pazienza. Mostratevi oggi comprendivi con ognuno che esternerà nei vostri confronti critiche o rimproveri, nel tardo pomeriggio qualche nuova energia vi donerà un nuovo slancio in grado di affrontare molti problemi irrisolti. Riuscirai a risolvere un problema che avevi da tempo. Fortuna. Ti esprimerai benissimo. Amici e collaboratori ti ammireranno. Sarai persuasivo. Magnetismo. Organizza una cena romantica. Vale la pensa di rovinarsi le giornate per dei dubbi sul partner che non hanno ragione di esistere? Se li avete provate a chiarirvi, ma fatelo presto e con tanta diplomazia. Mercurio oggi vi renderà taciturni e avrete poca voglia di imbarcarvi in discussioni lunghe che non portano a nulla. Meglio passare indenni questo giorno e sperare indomani. Come il vento porta via i pensieri, così avrete degli attimi di gioia pomeridiani che cacceranno il malumore mattuttino. Buone prospettive per tentare piccoli colpi di fortuna tentando la sorte. Puoi rischiare. Buttati a capo fitto in una nuova relazione d'amore. Con la tua pazienza e la forza di volontà potrai compiere miracoli. C'è una piccola sorpresa che vi attende, qualcuno ha pensato bene di chiedervi scusa con un piccolo gesto, piccolo ma molto significativo. Sorridete. In campo sentimentale la passione rinsalderà i vostri legami e qualcuno avrà la piacevole sorpresa di rendersi conto che le promesse verranno mantenute. Dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. Provate a divertirvi.Lavorare in gruppo con un nuovo socio o con un amico renderà alcune piacevoli ricompense, per cui non siate timidi oggi nel lanciare un nuovo progetto per il gruppo. Nel lavoro non tarderanno risultati soddisfacenti. La bilancia è senz'altro un segno interessato al misticismo, vivete il contatto con l'aldilà nella giornata della commemorazione dei morti in forma razionale, dignitosa, senza tanti fronzoli, ma con la devozione che vi contraddistingue. Anche se siete educati a una visione laica della vita, non vi manca però quel senso di umana compassione che tende a farvi avvicinare all'esperienza spirituale. Luna imbronciata allo zenit in quadratura, segno che il rientro al lavoro non è facile né indolore. Il vostro capo dimostra tutta la sua insicurezza, con cambiamenti repentini di idea che naturalmente non penalizzano il suo lavoro, ma il vostro, già appesantito dal vieco Saturno in sesta casa. Per fortuna rientrati a casa la famiglia vicoccola con tante piccole carinerie, parola del sole in seconda casa, rassicurante tra l'altro anche sul piano economico. Amore ed eros. Un filo di possessività nei rapporti, anche quelli che non riguardano direttamente la coppia, non lo ammettete ma siete gelosi del privato degli amici, dell'affiatamento tra colleghi, perfino delle preferenze di micio o fido per qualche altro membro della famiglia. Nelle vostre fantasie amorose raramente siete veramente felici, inseguite l'impossibile ma quando finalmente si realizza, la paura di confrontarvi con la realtà vi fa fuggire a gambe levate. Il quadro dei transiti in amore vede la vicinanza di Mercurio, dio dell'intelligenza, proprio in buon aspetto dallo Scorpione. Se nati tra 4 e 12 ottobre vivrete una fase di benessere e di armonia interiore che si riverbererà anche con una particolare avvenenza sul piano sentimentale, specie se appartenete al gentil sesso. La luna oggi, però permane in aspetto contrario per il vostro segno, producendovi qualche piccola incomprensione o mancanza di sintonia completa sul piano emotivo con la persona amata, specie se siete nati nella prima e terza decade. Non vi impuntate se non tutto scorre alla perfezione. Lavoro e denaro. Idealismo e senso umanitario animano le vostre iniziative, ma se un occhio è fisso agli ideali, l'altro guarda con interesse anche al guadagno. In conclusione, molto meno svaporati di quanto vorreste far credere. Rassicurante il gruzzoletto, nonostante la crisi che sta travolgendo il mondo le vostre finanze reggono bene e i vostri guadagni registrano una rassicurante impennata. C'è qualche contrasto in ufficio, ma voi lasciate correre specie se appartenete alla prima e alla seconda decade della bilancia. Continuate i vostri impegni senza curarvi di chi vuol solo creare scompiglio. Venere dal buon vicino segno della Vergine rema per voi. Benessere. Sensazione di malessere e di stanchezza, se poi il meteo è cambiato vi sentite infreddoliti, ma rientrando a casa vi basta trovare un buon piatto caldo cucinato con amore per recuperare in fretta energia e serenità. Per lei, cupido non vi sorride e venere vi volta le spalle, ma questo non è un buon motivo per trascurarvi, tra mattina e sera dedicate almeno un'oretta alla vostra immagine. Per lui, se con lei ci sono troppi problemi, una decisione radicale si fa a strada, o si continua, cambiando registro, o si chiude, restando amici. Colore delle emozioni, grigio medio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.